Con la testa probabilmente alle feste dei giorni scorsi, nella seconda giornata della Supercoppa, il Teramo esce battuto dal Rechi di Salerno per 3-1 dopo 90 minuti, giocati ben al di sotto dei consueti standard. Dopo i trionfi del campionato, i biancorossi, al cospetto di una delle prossime avversarie del torneo cadetto, partono subito in salita. Passano infatti pochi secondi e Gabionetta in percussione con un perfetto diagonale. Supera Narduzzo dopo aver approfittato di una incredibile indecisione della retroguardia teramana. Trascorrono un po' di giri di lancette e si vede la formazione biancorossa con Fiore che chiama all'intervento il portiere di Casa Russo. La pioggia non favorisce lo spettacolo. Il terreno allentato rappresenta un handicap non da poco per Granata e Aprutini che sono costretti a provare soprattutto le conclusioni da fuori. Al tredicesimo è così Khalil per i locali a mettere a lato. Un minuto dopo Gabionetta cade in area ma Caso di Verona lascia proseguire fra le proteste dei tifosi di casa. La risposta del teramo è affidata al bomber Donnarumma che non riesce però ad essere preciso. Un minuto dopo tocca alla padula che su punizione impegna l'estremo salernitano. Il teramo non è in grande serata e si vede. Ancora salernitana alla mezz'ora con un insidioso tiro cross di Lanzaro che trova la risposta di Narduzzo con i pugni. La squadra di Menichini al trentacinquesimo all'occasione per ipotecare il successo. Gabionetta sempre lui dopo un servizio perfetto di Khalil viene atterrato da Masullo. Il fallo inizia probabilmente fuori area ma Caso di Verona indica il dischetto. Dagli undici metri va Khalil che viene però ipnotizzato da Narduzzo prima di alzare incredibilmente oltre la traversa. Nonostante lo scampato pericolo al trentottesimo è ancora la squadra di casa con il solito gabionetta a mancare un'altra occasione con un pallonetto di poco fuori misura. Chi sbaglia paga visto che al quarantunesimo Fiore di sinistro batte Russo e rimette la partita in parità. La ripresa si apre al terzo con il raddoppio locale grazie all'ex pescarese Bobo che beffa Narduzzo con un tiro felpato che sorprende l'estremo terramano. Al tredicesimo si rivedono gli ospiti con Fiore mentre al quarto d'ora è Donnarumma ad alzare sopra la traversa. Ma non è serata per la squadra del presidente Campitelli che rischia al sedicesimo ancora su conclusione di Bovo prima di subire al diciottesimo la terza rete su colpo di testa di Lanzaro dopo un corner battuto dall'ex Favasuli. Gara praticamente chiusa con Bovo che al ventunesimo manca il poker. Prima dell'inutile assedio terramano. Ora il pensiero va alla gara di domenica al Bonolis con il Novara quando ai Biancorossi servirà una vittoria con quattro reti di scarto.